Ciao, anche oggi siamo a Bracciano in compagnia del nostro amico veterinario il dottor Giorgio Porcino, ciao Giorgio, in compagnia due splendidi esemplari di piccoli levrieri italiani. Esatto, due piccoli levrieri italiani. Posso dire subito una curiosità? Prego. Che sono i cani più antichi? Sì, probabilmente sono i cani più antichi perché diciamo che sono stati conosciuti fin dall'antichità, addirittura dei resti sono stati trovati in tumbe egizie di duemila anni fa. È importante dire qui che siamo di fronte a due cani di razza italiana. Le razze italiane sono 12 e quindi praticamente insieme ad altre che andremo comunque a presentare nei prossimi giorni fanno parte di cani appunto nostri, indigeni. Il levriero, qui abbiamo due piccoli levrieri italiani, sono praticamente, fanno parte del gruppo 10. I cani, tutte le razze vengono suddivise per un catalogo, un'esposizione in 10 gruppi e loro fanno parte del gruppo 10. Il gruppo 10 racchiude tutti i levrieri. I levrieri sono 12 razze e di varie origini. Abbiamo dei levrieri più o meno asiatici, non so, tipo il Saluki, lo Slughi, che sono cani più o meno diciamo del medio orientale. Ci sono dei levrieri italiani come questo e altri levrieri del bacino del Mediterraneo tipo il galgo espagnolo. Altri levrieri li ritroviamo in Scozia, in Inghilterra, in Irlanda come l'Arish Wolfound che è considerato il più grande in assoluto di tutti quanti i levrieri. E loro invece sono la taglia più piccola? Sì, loro sono in assoluto i più piccoli, diciamo in un certo senso forse i più graziosi. È un cane, diciamo come vi ho detto prima, antichissimo. Come tutti i levrieri la costante è questa linea praticamente aerodinamica, voi lo potete vedere abbastanza bene. Noi oggi siamo poggiati su un tavolino d'esposizione. Esatto, sì, questo praticamente conferisce al cane una certa sicurezza, è un tavolo diciamo specifico con una gomma, in modo che loro possano sentirsi sicuri perché naturalmente non è certo la loro condizione ideale quella di stare su un tavolo. Sono fondamentalmente, oggi come oggi, sono dei cani da compagnia, particolarmente pregiati e considerati per il loro carattere che è estremamente mite, affettuosissimo. Un'altra caratteristica che in qualche maniera ce li può far forse scegliere per tanti motivi e questa pelle, questo pelo, loro non hanno pelo, hanno una pelle sottilissima, delicatissima, hanno una particolarità, sono praticamente proprio senza odore. È vero, sembra di velluto. Il mantenimento di questi cani è praticamente ridicolo, quindi un lavaggio molto molto veloce può essere naturalmente fatto in poco tempo e il mantenimento quindi è ridicolo. Come stavamo dicendo prima sono dei cani da caccia, oggi come oggi sono considerati cani da compagnia, però diciamo in antichità e anche, non so, si parla di Luigi XVI, amava fare delle cacce nel parco della sua reggia con mute di 50 piccoli livrieri. Giorgio, che tipo di caccia? La particolarità della caccia che fanno i livrieri si chiama caccia a vista, quindi loro non usano l'olfatto come tanti altri cani da caccia, hanno praticamente questa particolarità, quella di cacciare solo quando vedono una preda. Quindi la caccia a vista. Esatto, i piccoli livrieri deputati più o meno per caccia di piccola selvaggina, quindi si parla di piccole lepri e cose molto molto piccole. Oggi come oggi vengono anche utilizzati per una caccia, non proprio una caccia, ma per uno sport che viene chiamato cursing. Tutti i livrieri lo possono fare e consiste naturalmente in gare di velocità, quindi si sfrutta la loro capacità di avere praticamente questa grande velocità e rincorrono naturalmente una lepre meccanica, quindi niente di cruento, scartando, correndo eccetera. Certo, questi cani sembrano delicatissimi, in realtà sono molto forti. Esatto, bravissimi. Allora hanno una struttura che ha questo, diciamo, questo look estremamente esile e poi spiegheremo anche più o meno perché, però hanno una grossissima rusticità. Naturalmente non sono indicati a situazioni dove il clima può essere molto molto freddo, perché comunque è una totale mancanza di pelo, non di pelo, ma insomma non hanno una grande pelliccia. Di grasso. Esatto, di grasso, fondamentalmente, brava. Per cui il tipo di caccia che fanno è quello. Qui la patti non vuole tanto stare ferma, ma noi la mettiamo un attimo giù e adesso vorrevo andare più o meno, se riusciamo, a far comunque vedere una caratteristica che è più o meno la caratteristica un po' generale di tutti quanti i livrieri. Il livrieri, un altro momento, abbiamo detto, è un cane aerodinamico e questa, diciamo, situazione viene comunque riscontrata in ogni suo singolo angolo, in ogni sua singola sfumatura. La testa, strittissima, il muso lungo, una lunga canna nasale, naturalmente, è indispensabile per poter far affluire più aria. Una profondità di cassa toracica veramente imbarazzante, naturalmente, per poter, e un ventre lebrettato. Gli angoli sono, naturalmente, diciamo, importantissimi perché per poter sviluppare velocità e quindi per poter avere una spinta adeguata, l'angolatura è importantissima. Quindi questa linea dorsolombare, che viene chiamata appunto levrettatura, è la loro particolarità. Perdonami, ma anche la coda che ha questa cosa particolare, che hanno solo i livrieri, che sta sempre infilata sotto, come se fossero spaventati? Quello, diciamo, può essere un discorso forse di un po' di timidezza, però la coda è importantissima, in un livriero deve essere sempre molto lunga perché in realtà è quella che fa da bilanciere, quindi permette al cane degli scarti repentini ed è quasi come un timone. Loro, muovendo la coda, riescono praticamente a spostarsi, a fare degli scarti in pochissimo spazio e in pochissimo tempo. Le teste qui sono due teste bellissime, potete vedere anche, diciamo, quasi una cesellatura. Infatti il livriero, tra le tante, diciamo, più o meno cani presenti nell'arte, è uno forse dei più amati. Sono presenti in opere del Tiepro, del Veronese. Si parla addirittura di Federico il Grande che ha un monumento funerario, desiderava addirittura essere sepolto nella tomba con i suoi livrieri, livrieri italiani. Naturalmente per un problema di protocollo tutto questo non è potuto succedere. Comunque, diciamo, sono dei cani che sono stati molto amati. Nelle corti, diciamo, nel Rinascimento forse è stato il periodo, non dico d'oro, ma nel momento in cui hanno avuto il maggior splendore perché erano cani, diciamo, delle dame e comunque allo stesso tempo cani da caccia, quindi riuscivano a combinare le due più o meno tipi di attività. Loro sono già adulti, vero? Loro sono già adulti, quindi qui praticamente avete il massimo della loro grandezza. Hanno ancora questo look molto da cuccioli, sono due bambine perché hanno solo 13 mesi, infatti sono abbastanza, non dico indisciplinate, ma comunque per loro questa situazione di tavolo e di ripresa forse non è molto congeniale, però comunque sono due splendidi esemplari. Potete vedere benissimo qui la lunghezza del collo, è praticamente un'opera d'arte, sono due, sembrano, non so, scolpite dal Cellini. Hanno delle zampe incredibili. Hanno delle zampe incredibili, l'ossatura naturalmente deve essere robusta e allo stesso tempo leggerissima. Certo. Il piede, il piede è importantissimo perché è un piede che naturalmente, quasi un piede da gatto, deve essere abbastanza piccolo, compatto e allo stesso tempo lungo per poter comunque coprire il terreno. il peso naturalmente, naturalmente hanno un look un po' magro forse, però non è assolutamente una magrezza diciamo più o meno patologica, è una costituzione che loro hanno perché comunque è come un grandissimo corridore, è come un grandissimo corridore che deve comunque avere determinate strutture e più che altro una fisicità che gli possa permettere di poter in qualche maniera sfruttare al massimo tutto quello che madre natura gli ha dato per coprire nel minor tempo lunghe distanze. Salve. Naturalmente anche parlavamo della bocca, essendo un cane da caccia ha comunque una dentatura diciamo non indifferente, adesso qui non so se riusciamo a far vedere, però tra la canna nasale e la bocca c'è comunque una dentatura non indifferente ed è importantissima perché comunque sono delle caratteristiche che devono essere mantenute, pur oggi non avendo più certe caratteristiche specifiche, quindi della caccia, comunque tutti gli allevatori cercano di mantenere quelle che sono le caratteristiche di standard originali, quindi vuol dire cercare di allevare praticamente mantenendo tutte quelle che sono le caratteristiche della razza intese come la tipicità e quindi è importantissimo che il cane abbia dalla sua tutte le caratteristiche che sono quelle originali quindi del cane da caccia, quindi ossatura, abbiamo detto bocca, abbiamo detto struttura ossea, torace sceso, coda lunga e la parte... sembra più tranquillina, è una struttura che naturalmente ha delle caratteristiche che noi prima abbiamo esposto, è vero, lei vuole stare più in braccio, lei è più tranquilla, questo abbiamo detto è un colore Isabella, tu in braccio hai un grigio acciaio e un altro colore contemplato dallo standard è il nero, le macchie bianche abbiamo detto sono praticamente un po' indesiderate, quindi forse leggeri sfumature di bianco sul petto possono essere accettate, queste abbiamo detto sono due femmine, il maschio è leggermente più grande ma naturalmente di poco quindi sono delle strutture, è un cane che noi non è che vogliamo assolutamente consigliare però forse è una razza un po' non dico non molto conosciuta, è una razza comunque che molta gente spesso vede per strada e non riesce a capire, quindi noi vorremmo spezzare una lancia a favore di questa razza, come avevo detto prima italiana, antichissima, abbiamo detto che i resti sono addirittura nelle tombe egizie, è un cane considerato già in età romana, è presente praticamente in tantissime diciamo forme di arte ed è comunque un grandissimo cane oggi come oggi da un cane per compagnia, è un cane con delle esigenze, esatto questo volevo sapere, le esigenze di questa razza, le esigenze sono praticamente ridicole, non hanno pelo per cui il mantenimento non ci implica bagni, sciampi o pelo lungo da mantenere, l'alimentazione naturalmente vi può fare immaginare veramente ridicola perché i fabbisogni alimentari sono molto molto pochi, la discrezione, la bontà, la gentilezza di questo cane più che altro ce lo può fare consigliare a chiunque, vuoi con bambini, vuoi persone adulte, è un grandissimo compagno, in casa chiedono veramente poco e una volta che possono magari accedere a dare esterne a grandi parchi veramente uno ha, non dico una soddisfazione ma sicuramente vede una trasformazione di questi cani, vederli correre è uno spettacolo, hanno praticamente un galoppo insomma esagerato, riescono veramente, io adesso non vorrei dire un'insattezza ma credo che vadano a 75 km all'ora, qualcosa del genere, forse troppo, 45-50 mi correggono dalla rigida, è un'idea comunque di pensare che non è poco per un cane di questa dimensione, quindi la cosa importante è quella, avvicinarsi a questa razza, ci sono vari siti dove voi potete trovare praticamente altre informazioni, ci sono grossi allevamenti in Italia che hanno comunque reso nome a questa razza nel mondo perché ringraziando il cielo in Italia abbiamo dei grandissimi allevamenti di svariate razze, anche di piccoli levrieri, abbiamo degli ottimi allevatori che ci hanno comunque dato grandi soddisfazioni su tutti i ring in Europa e oltre l'oceano. Cos'altro dire dei piccoli levrieri? Sono molto timidi come carattere? La timidezza in realtà è una loro caratteristica ma più o meno è anche una discrezione che loro hanno, quindi sicuramente non hanno un carattere esageratamente estroverso forse, però è una loro peculiarità e a chi può interessare comunque di avere un compagno diciamo discreto in tutti i sensi perché no pensare a un piccolo levrieri italiano. Quindi volevamo a questo punto spezzare una lancia a favore del piccolo levrieri italiano, abbiamo visto una taglia ridottissima, un peso massimo di 5 kg, purtroppo in Italia oggi come oggi si registrano circa dalle 80 a 90 iscrizioni all'anno, è un cane che comunque abbiamo detto per un viaggio è perfetto, pelo non ne ha. No assolutamente, è totalmente inodore ve lo posso assicurare, abbaiano pochissimi o non come questi altri facci che stanno urlando da mezz'ora. Che andremo a vedere dopo e quindi per carità se desiderate avere un piccolo cane da compagnia in casa pensate pure a un levrieri italiano. Ringraziamo la signora Agnese Spaziani dell'allevamento batterdali che ci ha prestato queste due meraviglie, Patti e Nina. E noi ci rivediamo prestissimo, continuiamo a parlare di piccole razze e di cani italiani soprattutto. Ciao grazie. Ciao. I cani, tutte le razze vengono suddivise per un catalogo, un'esposizione in 10 gruppi e loro fanno parte del gruppo 10. Il gruppo 10 racchiude tutti i levrieri, i levrieri sono 12 razze e di varie origini, abbiamo dei levrieri più o meno asiatici, non so, tipo il Saluki, lo Slugi, che sono cani più o meno diciamo del medio orientale. Ci sono dei levrieri italiani come questo e altri levrieri del bacino del Mediterraneo tipo il Galgo Espagnol. Altri levrieri li ritroviamo in Scozia, in Inghilterra, in Irlanda come la Rich Wolfound che è considerato il più grande in assoluto di tutti quanti i levrieri. E loro invece sono la taglia più piccola? Sì, loro sono in assoluto i più piccoli, diciamo in un certo senso forse i più graziosi. È un cane, come vi ho detto prima, antichissimo e come tutti i levrieri la costante è questa linea praticamente aerodinamica, voi lo potete vedere abbastanza bene. Noi oggi siamo poggiati su un tavolino d'esposizione. Esatto, sì, questo praticamente conferisce al cane una certa sicurezza, è un tavolo diciamo specifico con una gomma, in modo che loro possano sentirsi sicuri perché naturalmente non è certo la loro condizione ideale. Ciao, anche oggi siamo a Bracciano in compagnia del nostro amico veterinario il dottor Giorgio Porcino, ciao Giorgio, in compagnia due splendidi esemplari di piccoli levrieri italiani. Esatto, due piccoli levrieri italiani. Posso dire subito una curiosità? Prego. Che sono i cani più antichi? Sì, probabilmente sono i cani più antichi perché diciamo che sono stati conosciuti fin dall'antichità, addirittura dei resti sono stati trovati in tombe egizie di 2000 anni fa. È importante dire qui che siamo di fronte a due cani di razza italiana. Le razze italiane sono 12 e quindi praticamente insieme ad altre che andremo comunque a presentare nei prossimi giorni fanno parte di cani appunto nostri, indigeni. Il levriero, qui abbiamo due piccoli levrieri italiani, sono praticamente, fanno parte del gruppo 10. e quindi è un po' di cani appunto nostro.